Bella ragazzi, come promesso oggi andremo a spacchettare, anzi a girare più ruote possibili per sbloccare tutte le nuove skin che ci sono. Quindi ragazzi iniziamo subito con i primi dieci giri. Vai col dieci giri. Iniziamo subito a prendere la skin epica, il Metal Viking. Ottimo. Vediamo chi pigliamo qua stavolta. Un'altra skin è quella del Non Binary Pride. Eccolo, ecco subito. Ma no, subitissimo, lo special twister, lo subito, subito. Ma no, si vola, lo proviamo subito allora. Un'altra speciale, no, peccato. Il Cherry Bear. Leggendare se non erro. Ma forse è epica, forse è epica, epica. Emotes. Ah, un altro Angel, stavolta non è Dark, ma è Sun Dark. Ransi Bear. Il cuore. E poi che abbiamo? Oh, ma quanti giri sono? 6.000? Non so, fossero 10. Quando sono gratis durano infinite. Quando li pago non importa. Sembra che finiscono subito. Ah, due skin speciali, dai, buone. Il Liquid Rainbow. Vai, ci siamo. Andiamo subito a provare la skin. Personalizza. Del twister. Sono comodo, che bella sta skin, raga. Ci sono delle skin che girano. Ma perché sono dietro e girano le skin, no, un po'? Che skin sono? Sono velocissime, non si vedono. Dovrei vedere la rallentatoria. Voi potreste farlo nel video. Ma c'è, io ho visto Spider-Man, raga. Io vedo Spider-Man qua. Scusate, andiamo nella skin. Quello non è Spider-Man, quello che c'è qua in fondo. Chi cavolo è, allora? Io vedo Spider-Man, raga. Che sia uno spoiler da una skin di Spider-Man a Rio. Ma comunque. Favamo se è una partita, va. Vediamo che succede. Ah, si muove pure. Oddio. Non si muove il mio... Ok. Ma è fighissima sta skin, raga. Qua... Elevatevi, porca paletta. È bella perché si muove... Ma ma siete stupidi, porca paletta. Siete tutti stupidi i bot in questo gioco. Ma non c'è il kick. Guarda, 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 guarda. Guarda che fedenti sti bot, guarda. I bot-tenti. I fedent-bot. Beh, cadevi sto... No, io! Niente! Ma come mi ha preso il martello? È enorme sta skin, per questo. Ok. Comunque siamo qua. Ma diamo un bel GG. GG. Scendi, scendi, signor tornado. Pigliati tutti, pigliati tutti e farli volare a sti fedenti. Ma proprio stambolsoc che devo uscire. Ma dove è brutta la skin in versione azzurra? Carina, in effetti. Non è tanto brutta. Ma non si muove in versione azzurro? No, si muove pure. Allora c'è la banana. Poi c'è il sensei. Ah, forse è una macchinina rossa. La macchina di Hot Wheels. Forse era il race driver. Andando back questo gol di Sparks Utsu. 2-0. Ragazzi. Grossa, grossa, grossa! Boom! Ma... Che gol, che gol! 4-0. Guarda, 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 guarda sto petente come... 5-0. Di testa il signor Sparks Utsu. È the goal. È the goal. Vabbè, 7-2 stiamo a vincere, ragazzi. Lasciamo stare. Un tiro, vai! Palo! Guarda, che gol! Vai, l'ultimo gol! No, ci stavano i due dietro, non l'avevo visti. 10-2. Aia, si va su Rush Hour. Però non ho nemo... Questi sono bot, si buttano tutti tanto. Mi metto alla fine che vinco. Così faccio la prima corona e vado in classifica. E spacchiamo tutti i stifetenti qua... Dei creator. Così invece vedete chi comanda nella classifica globale. Che nessuno ha fatto ancora win. Vai! Mettiamo la bandiera italiana in alto. Ma che stanno tryhardando i bot? È possibile, eh? Da quando i bot tryhardano su Rush Hour? Mo' mi distraggo e perdo io. Oh! È cascato uno. Vai! L'altro è cascato? No! È cascato! Forza! Ma che volevo dire io di cascato? Guarda, guarda! Mo' si spingono tra di loro, guarda! Ma uno si è buttato da sotto. Ma... Così... Ho vinto. Ho vinto. Se tutte le partite fossero così... Peccato che non siete botto, va? Allora... Prima partita vinta, prima corona. Andiamo a vedere subito la classifica globale. Ci sarà uno Sparks tra i primi dieci, forse. Vediamo. Almeno qua, diciamo, almeno qua. Vediamo un po'. Classifica. Attenzione, dov'è lo Sparks Sonic con la bandiera italiana? Dov'è? Eccolo qui, venticinquesimo come trofei. No, corona, corona dobbiamo guardare, no? Corona. Sono settimo. Sono settimo... Settimo globale, brah! Andiamo a fare altri giri che prendiamo altre skin, dai. Altri cinque, dieci giri, vai. Vediamo che becchiamo, vediamo che becchiamo. Emotes, buono. Quello del zucchero filato. E adesso un'altra emote. Ovviamente, ragazzi, il Nick me lo cambieranno presto, nella beta, spero. No, sì. Abbiamo anche l'Ace Pride. Ci sono due skin del Pride. Non so se c'è un evento. Anche le emote del Pride, vedi. Non so se c'è un evento Pride in arrivo. E se faranno qualcosa... Ecco il Pineapple. Pineapple Bear. E se scopri se sta organizzando qualcosa? Non lo so. Doppione leggendario. Già i primi doppioni stanno sbucando. Occhio, occhio. Ancora zucchero filato. No, è un osso, è un osso. È un teschio, è un teschio. Però io lo chiamo zucchero filato. Il 3D emote. Ancora le Sprite. Ormai le sue memoria nei nomi. Il ninja! Il Jade Nyan Beast. Dov'è detto ninja? Ho detto jade, dovevo dire. Il ninja, mi viene di dire ninja. Il Jade Nyan. Perché Nyan è jade. E quindi faccio ninja. Comunque, non so se avete notato. Ma ci sta un nuovo item qui. Chiamato cartuccia. Scambia con delle ricompense nel negozio. Fondi sta arrivando qualche nuovo evento. Con le cartucce. Che sembrano floppy disk. Quindi un nuovo evento sta arrivando. Non ne hanno ancora parlato. Di questo nuovo evento. Oggi il nostro team esports. Dei replay totem. Ha sfidato i team più forti al mondo. Portandosi a casa. Il titolo di campioni del mondo. Della Esle Master Snapdragon. Vi starete chiedendo come diventare. Pro player del mobile. Come loro. Oltre al duro allenamento. E a tantissimi sforzi. E alla passione. C'è anche l'aiuto della crema Grabbitz. Una crema che riesce a farti aderire le mani. E ti leva tutti i problemi di sudorazione. Quindi non sudando. Non vi scivola più nemmeno il pad. O lo smartphone. Per giocare a livelli davvero competitivi. Quindi se volete essere voi i prossimi campioni. Mi raccomando. Date un'occhiata alla crema Grabbitz. Allora. Andiamo a provare un'altra nuova skin. Questa non serve. Perché comunque l'abbiamo già provata. Nei vecchi update. Potremmo provare il Liquid Rainbow. Per l'altra skin speciale. Se no ci sarebbe il Nian. Alla fine non mi piace molto. Queste sono carine comunque da vedere. Anzi. Passiamo altri cinque giri. Cinque giri vai. Perché vorrei trovare anche delle altre skin. Però. Eccolo. Questo non lo volevo trovare. Il Gambibara. Però vabbè. L'abbiamo trovato. Era una di quelle che non volevo trovare. Ok. Mi sa che l'abbiamo quasi trovate tutte comunque. Un altro skin speciale. Doppione. Non sia mai. Perché non trovo non doppioni io. Non sia mai. Eccola. Eccola. Niente. Il Cherrybeer doppione. E questo di nuovo doppione. Capaletta. Tutti doppioni. Vabbò. Andiamo a provare sto Liquid. Carina la Rainbow Liquid comunque. Prende un effetto stranissimo. E mi ricordo un cartone. Tipo Picchio Picchiarello. Non so se mi spiego. Picchio Picchiarello. Non andando in. Solo da dietro però. Solo da dietro. Poi davanti non c'entra niente. Davanti sembra un robot. Sembra. È fighissimo comunque. Vorrei fare un round per ogni skin. Secondo me. Così provo tutte le skin. Devo ammettere. Non è niente male. Potrebbe diventare una delle mie skin preferite. Perché non infastidisce. Il colore è chill. Mi piace come skin. Veramente. C'è quel colore tipo cromatico. E il più bello forse le skin cromo. Che riflettono i colori della mappa. Così diventa tipo una specie di azzurrino. Bianco tipo il cielo. Poi si avvicina a rosa. Diventa rosa. Davanti è molto carina come skin. Beh. Devo dire che è molto carina. Mi piace come skin. Non è meglio del Golden Gloves per loro. Ok. Vai. Deve andare avanti. Penello. Penna avanti. Deve andare indietro. La porca paletta. E il bot che ve l'ho fatto programmato male. Questo qua. Aia. Bombarda. Qua è su bombarda mentre yardano i bot. Sono fortissimi i bot su bombarda. Che stanno fermi. E io capace muoio perché mi pigiano una bomba di questi qua. Edz. Zitto. Zitto. Però in teoria non rischio che mi danno pugni. Quindi me la faccio chill e io. Ma che uno è morto. Tutto ciò che ho detto l'ho posto in pratica. Loro muoiono con le bombe. Io invece ne salvo. Edz. Seconda carona. Carona. Seconda corona coming. Seconda carona coming. Carona. Non lo so dire. Seconda corona coming. Vai. Facciamo. Vai. Oh. Oh. Ma come si permette? Ok. Siamo rimasti in due. Lo squalo contro Sparks. Lo squalo vincerà perché sa nuotare. Potrebbe essere una opzione. Vai. E buttati. Salta. Guarda quante bombe lanciano questi qua di pirati. Eh ma killatelo. Killatelo so squaletto. Vai. 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 Sì. Sì. Bravissimo. Fertiti là. Grande. Ho vinto. E si vince un'altra win. Un'altra partita si vince. Vai. Giriamo altri dieci spin. Bisogna che troviamo qua stavolta. Oh. Niente. Niente. Pensavo il robottino. Invece no. Il doppione speciale. Giusto così. Altra skin buona. Oh. Il 3D guy. Questo mi mancava. Buono. Poi. Questo forse mi mancava pure. Sì. Il jetpack Jones. Yo. Jones. Benvenuto. E questa ce l'abbiamo. Tra l'altro hanno messo pure due. Per dire. Se la trovi una volta. La trovi 300 volte. Questo mi manca. Mi sa. Il dark pill. La banana oscura. Tan 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 tan. La banana cattiva. Niente. Sto Neon qua. Basta. Eppure è brutta. La skin mi ha detto subito che non mi piace. Hai visto? Sempre questo qua mi ha fatto trovare. L'unica skin mi ha detto che non mi piace. Mi ha fatto trovare sempre. O zucchero filato. All'infinito Neon. Basta. Tre volte l'ho trovata. Non in un giro. In dieci giri. Quattro. Ah. Oh. Il metal goblin matcha. Oh. Tre volte la speciale in un giro. Fortissimo. Sì. Guarda. Non ho parole. Guarda. Facciamo altri giri. Vediamo se riusciamo a completare questa collezione di skin nuove. Se non sclero. Che ne mancano pochissime ormai. E questo mi manca forse. Ma un po'. No. Ce l'avevo già. Quale mi manca allora? Mi manca il golden robot. E basta. Solo il golden robot forse mi manca. Sapete? Ah. E gli altri orsetti mi sa pure. Ecco. Questo mi mancava forse. Doppione. No. Che mi manca? Porca paletta. Mi manca solo lo. L'avevo davveramente. Questo mi manca. Niente. Questo l'abbiamo preso prima. Ma quindi se skin nuove che sono epiche si troveranno tra gli giri epici? Mi viene da chiedere. Mi viene da chiedere. Molto curioso. Essendo epiche. Però forse no. Perché altre epiche sono uscite e non si trovano là. Si trovano solamente in eventi speciali. Questo mi mancava forse. Oh. Il laser shark. Ecco un altro che mi mancava. Ecco il robottino. Niente. Niente. Il gummy bar. Il candy bar. Come cavolo si chiama. Non lo so. Emote 3D. Perfetto. Tutti i doppioni tranne laser shark. E la no cake for you. Niente torta per te. Grazie. Sempre gentile Stumble Guy secondo me. Sempre. Sempre. Allora vediamo che skin mi mancano raga. Ma leggendari l'ho preso tutte mi sa. Legendari l'ho preso tutte. Mi manca solamente il pixel orbit golden robot. E l'epico l'abbiamo preso tutte. Gli orsecchi aotti. Ah forse il ninja copter mi manca pure. Sai? Altre 10 giri. Veloci. Non mi ricordo se ce l'avevo o no. Comunque. Nel dubbio. Angel. Queste mi mancava. Mi sa come moz. E dai fammi uscire niente di nuovo. Eccolo. Ma te ne fanno brodo. Ma te ne fanno brodo. Ma se già non le trovo qua. Pensa nel mio primo account. Quando ci metterò a trovarle. 6 milioni di anni. 6 milioni. Ah. Ecco. Bravissimo. Bravissimo pixel orbit. Questo non ce l'avevo mi sa. Vediamo un po'. Ok. Non capisco. Se fanno una ruota per le mozze. Perché mi mettono le mozze pure qua poi? E che fai? Non posso chiudere il video se non trovo il ninja copter. Ragazzi. A me non il ninja copter. Non devo far trovare dai. Devo trovarle tutte in un video. Se no. Dov'è il content bello? Scusate. Vai. Ninja copter. Ah forse con la canzone. Ninja copter. Ninja copter. È il famosissimo TikTok in 30 anni fa. Non funziona. Non è questo. Non funziona. Aspetta. Niente. 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 Red Bell. Cherry Bear. Vediamo. Vediamo. Niente. Niente. E poi deve arrivare a provare al centro della ruota. Al centro della ruota delle skin. Cioè in pratica tipo. Qua. Ha funzionato. Ha funzionato. Fatelo pure voi. Cantate la canzoncina se volete questo ninja. Cantate la canzoncina. Ninja copter. Ninja copter. Che esce sicuramente. 100%. Vabbè. Possiamo uscire dalla ruota. Andiamo a provare il nostro orbit. Nella nuova mappa. E poi finiamo. Let's go. Dobbiamo win. Dobbiamo vincere qua. Bam. Si è sparato da solo. Quello stupidino. È cascato con un broccolo. Oh. Ehi. Ehi. La violenza non è la... La unica... L'unico modo di vivere. Bravo così. Non prendo gettoni. Voglio andare al centro. Ottimo. 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 Spark Souls. Ma sai che stare al centro conviene comunque. Perché... Pono delle... Delle monete infinite. Però è brutto perché in pratica ti mirano a tutti i posti. Vedi? Quello si è sacrificato. Si è ucciso per ammazzarmi. Anche se non c'è riuscito. Però è anche vero che si possono... Oh ma sti bot c'hanno con me. Pure il bot. Non solo i fan e i creato. Pure il bot contro gli Spark Souls. Ma di qua si può saltare tipo così? Ah ma si può saltare tipo bypassare il jump. Buono. In effetti è molto lungo il jump. Cioè è molto corto il salto. Stanno a rosicare il bot perché sono stupido. Non sanno prendere le monete. Niente. Sto scherzando. Ma no come siete... Le peper malosi. 87. 88. Niente. 89. Peccato. Abbiamo preso tutto ragazzi. Ora abbiamo preso tutto. Manca ancora il ninja robot gold. Oh ma come siamo messi. SparkSuzzo. Sto fai tende non l'abbiamo ancora trovato. È gold del robot. Non possiamo chiudere il video. Potremmo stare qua all'infinito per trovare il robot. Alla ricerca del robot. Aspetta 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 aspetta. 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 Sì. Golden robot. Non l'avevamo ancora trovato finalmente. Dai. Dai. E quindi abbiamo finito tutte le skin ragazzi. Mi raccomando. Mi piace. Iscrizione. Campanile attiva. E a part i scherzi ragazzi. E mettetele questi mi piace. È un pussantino. E ogni volta non me li mettete mai. Siete fedenti. Non tutti. Ciao ragazzi. Bella. Ciao ragazzi.